Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata sono tornato da una spedizione che mi ha portato a trovare un igloo e anche gli orsi polari. Inoltre ho visitato una caverna dove c'era anche una miniera, però non sono riuscito a portare a casa materiali importanti, soprattutto niente diamanti. In questo episodio ragazzi andremo a iniziare un nuovo progetto. Sto lavorando già da un po' di settimane a questa cosa, non l'ho ancora ultimata diciamo nel mio mondo in creativa, però ci sono già alcune cose che possiamo andare a fare. Prima di iniziare però ragazzi vorrei parlarvi di una cosa. Quelli che mi seguono su Instagram avranno sicuramente visto il post che ho fatto ieri, che era il primo di aprile. Ho infatti postato una mia foto con dietro lo schermo del pc e la schermata di morte di Minecraft e mi trovavo proprio in questo punto dove c'è la casa del pescatore. Ragazzi pescatore, pesce d'aprile, tutte queste associazioni. Sicuramente molti di voi avranno capito lo scherzo, non sono morto ragazzi, però siccome il primo aprile è il giorno dove su internet non potete leggere nessuna notizia perché sono quasi tutte false, volevo adeguarmi anch'io a questa cosa. Quindi mi sono un attimino divertito facendovi credere che ero morto per la prima volta in questa serie. Ma ora non perdiamo tempo perché ci sono molte cose da fare e iniziamo subito l'episodio. Allora prima di tutto volevo procurarmi un pochino di legna e quindi volevo andare alla casa qua che ho del boscaiolo per recuperarne un pochino. Allora saliamo di qua, questa non so se l'avete visto, l'ho fatto un po' di tempo fa, tra l'altro un giorno che stavo parecchio male. Salve, cosa ci fa lei qua? Perché è venuto qua? Ok, perfetto, era in agguato lì in mezzo al bosco. Allora la casa del boscaiolo sta qua, eccola qua. Qua c'è la nostra discesa, chiudiamo prima che arrivino i mob. Oh, ecco qua la nostra farm di legno. Allora, che bello ragazzi, funziona ancora la farm di legna. Ok, vedete che qua c'è tutta la legna, si è anche spostata in avanti, quindi adesso usiamo la nostra bellissima ascia e andiamo a prendere un po' di legna. Prendo anche quella di birch, va bene. Ci direi di farne ancora un pochino, giusto per essere sicuri. Perché ne ho poca nel magazzino e quindi volevo un attimino andare a rifornirlo. Eh, giustamente. Allora, bene, funziona veramente bene questa farm. Guardate ragazzi, è comoda, eh. Direi che ce n'è abbastanza. Cosa ho fatto? Uno stack praticamente. Eh, sì, dai, 55. Allora, andiamo a portarla in magazzino. Ragazzi, anche questa è una cosa bellissima che ho fatto. Allora, qui si fa un po' fatica ad aprire la cassa. Allora, si mette tutta la legna qua e basta così direi, perché questi li tengo. E a questo punto possiamo mandare il nostro carrellino che arriva al magazzino. Oggi andremo a fare una cosa che riguarda il paesaggio. Perché vorrei sistemare la parte dove c'è il mulino e la giungla. Nella scorsa puntata vi ho parlato del fatto che avevo in mente di costruire un covo di pirati. Visto che nell'ultimo aggiornamento di Minecraft sono stati aggiunti anche i pappagalli. Non ho ancora aggiornato questa versione per il let's play, perché ho paura che ci siano dei problemi. Visto che hanno già rilevato diversi bug. Quindi vorrei aspettare un attimino prima di installarli. Però possiamo iniziare a lavorare a questa cosa. E una delle prime cose che volevo fare era sistemare il fiume che è interrotto in un punto. E quindi non posso arrivare con la barca fino nella zona della giungla. Allora andiamo a vedere un po'. Ok, la luce è accesa. Quindi in teoria qua, ragazzi, fantastico il tempo che siamo arrivati qua ed è arrivata la legna nel magazzino. Perfetto ragazzi. A questo punto direi che ho anche abbastanza materiali. Mi trasferisco nella zona dei lavori di oggi. Benissimo, sono arrivato nella zona dove volevo lavorare. Là in fondo si intravede la torre, la casa del pescatore dove ero nella intro. E qua in fondo c'è il faro. Da questa parte invece c'è la giungla e là in alto la casa sull'albero che ho fatto un po' di episodi fa. Come potete notare qui l'acqua si interrompe e qui c'è questo piccolo laghetto e un accenno di fiume. Se andiamo a vedere in quella zona qua, dove c'è questa specie di piccola valle, il fiume potrebbe continuare qua in mezzo a queste due piccole colline e arrivare qua ed unirsi e continuare. Come vedete qua c'è ancora dell'acqua e il fiume prosegue. Se ora andiamo a vedere qua avanti ragazzi, dove c'è la zona del mulino. Ora vi faccio vedere. Il fiume prosegue ulteriormente. Allora andiamo là velocemente. Tra l'altro sono tutte zone queste che vorrei sistemare. Ho veramente tantissime idee in testa ragazzi, ma non sempre riesco a realizzarle per questioni di tempo. E inoltre siamo anche in modalità survival, quindi è molto più difficile distruggere e ricostruire le cose. Comunque, qua c'è la farm di pesce e vedete che il fiume prosegue anche qui con delle pozze d'acqua, però va avanti, prosegue, prosegue, prosegue e arriva fino all'altra giungla là in fondo. Quindi sarebbe bello che io con la barca potessi arrivare da casa fino in questa zona. Inoltre potrei avere l'accesso alla giungla, perché nella giungla vorrei costruire il covo dei pirati. Allora, vi spiego un attimino cosa vorrei fare. Da questa parte vorrei creare una specie di casetta che ho già progettato ma non riusciremo a fare oggi. E qua un sentiero che si inoltra all'interno della giungla. E qua dentro fare tutta la strada che poi mi porta dove c'è la casa sull'albero. Mentre dall'altra parte di questa specie di penisola, non so come poterla definire, creare il vero e proprio covo dei pirati. Quindi insomma, ho in mente un progetto abbastanza grande ragazzi, che mi richiederà parecchi episodi per poterlo completare, anche perché ci sono delle costruzioni veramente pazzesche. Perché ho un uovo? Vabbè, facciamolo così. In ogni caso ragazzi, ora si inizia a scavare. Vi volevo far vedere un'altra cosa bellissima. Qua sotto c'è una specie di buco e c'è una caverna che ho esplorato un po' di tempo fa. Guardate, io scendo. Si arriva qua. Guardate. Allora, andiamo qua. Perfetto. Et voilà! Questa era una caverna che avevo esplorato un sacco di tempo fa. Credo che sia unita a quella dove c'è la giungla, che c'è una specie di caverna che sfrutteremo anche per i pirati. E qua avevo fatto questo pillar per poter uscire. Ragazzi, ricordi, ricordi, perché qua parliamo dei primissimi episodi, eh. Quindi, veramente. Ok. Comunque andremo a chiudere anche questa cosa. E ragazzi, niente, bisogna... La peppa! Efficienza 4, ragazzi! Trivello! E c'ho anche mending su questa pala, vedete? È una pala... No, bellissima. Ragazzi, è fatto, è fatto il lavoro. Pazzesco! Ragazzi, è bellissimo! È bellissimo! Vabbè, ma fantastico! Sì, l'ho già consumata a metà, eh, praticamente. Devo ripararla già. Ma è pazzesco! Ragazzi, abbiamo già fatto metà del lavoro. Va bene, dai. Proseguo un attimino off camera e vediamo di sistemare. Ok, un po' di progresso. Ho dovuto cambiare palla, ragazzi, perché praticamente si è esaurita. Purtroppo non aveva unbreaking, quindi è andata bene per un po', poi dovrei ripararla e magari aggiungergli quell'incantesimo. Allora, innanzitutto volevo dirvi che vorrei fare questa parte qua profonda due blocchi, così non ci sono problemi con le barche, anche se potrebbe bastare un solo blocco, però direi che due è meglio. Andiamo ad unire la parte qua con quella già esistente. Allora, vediamo un po', così dovrebbe bastare. Dobbiamo allargare un po' sicuramente questa parte. Ragazzi, un po' di sistemazione del terreno bisogna farlo, eh. Mi sta piacendo questa cosa, ragazzi, perché ultimamente stiamo anche cercando di decorare tutta la zona qua intorno con diverse cose. E' una cosa molto bella, perché è vero, le farm con la redstone sono interessanti, però oramai ne abbiamo fatte quasi tutte quelle che si potevano fare, quindi preferisco adesso lavorare ad altre cose più decorative, che secondo me sono bellissime da fare, perché qui la fantasia veramente, ragazzi, prende il volo. Ok, direi che qua possiamo anche lasciarlo, questo mini stagno, non so come definirlo, anche perché da quella parte si intravederà l'ingresso del covo dei pirati, quindi è perfetto, perché da qua uno arriva e vede quello. Qua devo allargare ancora, ma devo sistemare anche questa zona qua, quindi qua chiuderei tutto con la terra, così l'acqua non va in giro, intanto adesso di terra ne ho recuperata tantissima. Questa caverna qua la lascerei, in modo da poter uscire di qua, quindi facciamo una specie di scorcio all'interno di questa zona e andiamo a sistemare qua. Naturalmente anche le caverne vorrei decorarle un pochino e non lasciarle, diciamo, naturali come si vedono qua. Ok, ok, anche qua direi che vado avanti un attimino off, devo chiudere questo buco perché vorrei evitare di lasciare aperto il varco verso la caverna sotto. Ragazzi, direi che ci siamo, ho scavato qua, come vedete, due blocchi e adesso dobbiamo iniziare a togliere questa specie di, come possiamo definirla, diga che ho fatto. Prima questi qua sotto, vediamo cosa succede, ah, viene dritta, perfetto, come non detto, non va bene così, perché adesso se tolgo anche questa, che succede? Non si riempie più, ovviamente qua, eh no, eh no, infatti, devo utilizzare adesso il ghiaccio per riuscire a riempire. Se io piazzo il ghiaccio qua, questa altezza qua, che è quella dove devo fare praticamente arrivare l'acqua, dovrei riuscire a riempire. Vediamo un po', se io tolgo questo, ok, diventa acqua, diventa acqua, perfetto, esattamente quello che mi serve. Quindi devo stare un pochino sul bordo, ragazzi, e andare avanti così. Ragazzi, vado avanti, ovviamente, off camera e se riesco a salire qua. Allora, così, in modo da riempire, oh no, questo non devo far così, va bene, questa zona tutta quanta di acqua. Praticamente ho creato un fiume impetuoso, ragazzi, guardate un po', devo sistemare un pochino, perché direi che non va bene così. Allora, vediamo se riusciamo con anche il secchio d'acqua, esatto, con i secchi d'acqua si riesce a compensare il punto dove manca l'acqua, perfetto. È la stessa cosa che mettere il ghiaccio alla fine l'acqua, eh, però in questa maniera ci vuole un pochino più di tempo, ma si può fare, si può fare. Un altro metodo che si può utilizzare per riempire, vi faccio vedere il trucchettino, è mettere dei blocchi di terra sotto. Vedete che man mano che li metto, si va a riempire tutta quanta la zona. Quindi facendo così, quindi tornando un pochino indietro con il lavoro, vedete, sistemiamo anche dove ci sono le correnti. Ecco, vedete che qua adesso è a posto, quindi togliendo poi qua sotto con la pala tutto quanto, andiamo a sistemare come vogliamo. Quindi non è una cosa così complicata mettere a posto l'acqua in Minecraft, ci vuole solamente un pochino di ragionamento, ragazzi, ma appunto il trucchetto di mettere solamente un blocco sotto, come vedete, funziona veramente bene. Tadam, ce l'ho fatta ragazzi, il fiume è pronto, come vedete, forse là in fondo si stringe un po' troppo, magari vedrò di allargarlo un attimino e qua magari di stringerlo un po', adesso ci penso un attimo, però direi di cominciare ad aggiungere vegetazione. Allora, in questa zona qua, che è ancora, diciamo, foresta, vorrei utilizzare gli alberi di birch e anche questi qua, mentre man mano che ci avviciniamo alla zona della giungla, magari aggiungere anche qualche albero diverso e ovviamente mettere queste liane che arrivano sopra il fiume, che secondo me stanno veramente benissimo. Vedete qua, siamo già nel bioma della giungla perché il colore dell'erba è diverso rispetto a quello che c'è qua. Bene, direi di iniziare un pochino con gli alberi e proseguiamo con il nostro lavoro di preparazione di tutto il terreno. Allora ragazzi, ho sistemato un pochino la cosa, vedete che adesso il fiume non è proprio regolare ed era quello che volevo. Allora, andiamo un po' avanti, voglio vedere un po' di percorrerlo perché così capisco un attimino, perfetto. Ho aggiunto anche della terra ai lati in modo da fare delle colline un po' più irregolari, perfetto ragazzi. Ce la facciamo perfettamente se andiamo avanti così, benissimo, benissimo, ok. Qua prosegue, anche se era alto 1 non c'è problema. Bene, bene, possiamo tornare indietro, direi che funziona tutto qua, ovviamente è ancora da sistemare. Quindi posso iniziare a fare la vegetazione, quindi a mettere un po' di vegetazione qua. Perché voglio che sia abbastanza stretto questo passaggio, però pieno di alberi e vegetazione perché stiamo entrando nella giungla. Allora, lasciamo la barca da qualche parte, direi qua. Ok, mamma mia ragazzi, che lavoro. Comunque vedete, sto aggiungendo anche la terra qua. Ora, per aggiungere gli alberi ho qui il bone meal, quindi in questa zona qua vorrei ancora mettere questi alberi qua. Quindi piazziamo un albero e andiamo a farlo crescere. Et voilà. Così andiamo anche a stringere. In realtà non stringe la parte di acqua, ma solamente quella dove c'è il cielo sopra. Allora, andiamo a mettere un po' di erba anche. Ragazzi, qua ci vorrà un bel po' di bone meal per riuscire a coprire tutto quanto. Però ne ho a casa dell'altro e al limite andiamo nella farm di mob a prenderlo. Allora, qui potremmo mettere un altro albero. Ok, perfetto. Fantastico. Così si chiude bene, come se fosse un tetto, diciamo. Ragazzi, devo procedere in questa maniera. Poi voglio sistemare anche questa caverna e fare un po' di foglie che scendono. Renderla un pochino più, diciamo, cavernosa. Non so come definirla. Ed è corta, vedete, esce di qua. Però è perfetta, perché da questa parte possiamo fare la strada che arriva direttamente al mulino. Ragazzi, work in progress. Ho messo un po' di alberi, come potete vedere. Adesso vado a casa a prendere delle foglie, perché voglio fare dei cespugli che finiscono all'interno del fiume. Allora, ragazzi, sono andato avanti un pochino. Guardate qua, ho aggiunto anche le canne da zucchero. Vedete, qua c'è tutta la vegetazione. Ho messo un po' di cespugli. Ragazzi, la parte migliore che mi è venuta è stata questa. Guardate, qui sono riuscito a mettere degli alberi in modo che le foglie si toccassero e quindi diventasse un vero e proprio arco con le foglie. Adesso voglio aggiungere anche queste vines che cadono giù qua. Ragazzi, volete capire come lavoro? Perché io lo so, poi mi chiedete, ma Tec, facci vedere cosa fai. Beh, è molto semplice, guardate. Io mi metto qua, per esempio questa zona qua, scendo, ok, vado qua e metto le foglie, proprio a caso, guardate. Non è che ci voglia chissà che cosa, si fa un po' a caso così e vengono automaticamente le cose, ragazzi. Quando mettete la vegetazione in Minecraft, guardate, ha già cambiato aspetto, vedete. Non serve chissà quale abilità per fare queste cose, ci vuole solo un po' di fantasia. Naturalmente dovete utilizzare anche il bone meal, così mettiamo altra vegetazione. I fiori non li prediligo tantissimo, soprattutto questi qua gialli che secondo me danno un sapore di antico a questo Minecraft. Allora, qua volevo fare anche un accenno, non serve male, un accenno di sentiero. Così, proprio molto easy. Così, non tanta roba, così, ecco, in modo che si capisca che qua c'era una specie di stradina che arriva all'interno di questa caverna, che dobbiamo decorare, quindi ho portato della gravel e anche dell'andesite. Quindi, se io adesso vado qua e, come al solito, tolgo un po' di questa pietra qua, metto l'andesite al posto di questa, quindi faccio un po' di movimento, diciamo, con la pietra, la cosa viene molto meglio. Potrei anche, volendo qua, aggiungere delle scale, quindi possiamo, per esempio, andare a fare delle scale con il legno. Allora, vediamo, più che scale, dei mezzi scalini, o meglio, mezzi blocchi. Ormai le ho chiamati così. Allora, vediamo un po', facciamo così e ci prendiamo questi e andiamo a sistemare la parte della caverna, così qualcuno qua, che arriva, si può accorgere che può passare di qua. Quindi possiamo fare così, mini scalette, proprio una cosa molto grezza, eh, ragazzi. Non una cosa fatta bene, apposta, perché è un sentiero che è stato fatto così per riuscire a passare da questa parte più rapidamente invece che fare totalmente il giro. Ecco, una cosa del genere. Poi qua possiamo proseguire, adesso quest'albero magari dà un po' fastidio. Anche qua sopra, ragazzi, voglio sistemare un po', mettere altre pietre, in questa maniera, per rendere un pochino più varia la cosa, e lasciare queste torce, magari sì, quello sì. Insomma, ragazzi, questo è il modo in cui lavoro in questa zona, vedete? È abbastanza semplice farlo, però è molto divertente, almeno a me piace veramente tantissimo fare tutto questo lavoro. Allora, prendiamo delle altre foglie, ok, andiamo a fare così e aggiungere altra vegetazione. Deve essere molto molto verde questa zona. Ok, ragazzi, direi che ci siamo, vi faccio vedere il lavoro ultimato. Questo è il risultato. Se pensate a com'era quando abbiamo iniziato l'episodio, è cambiato parecchio. Voglio farvi anche vedere questa parte, dove c'è questa caverna, che ho decorato, vedete c'è tutta la vegetazione. Qua c'è la scaletta, dentro ovviamente ho cambiato tutta quanta la pietra per renderla più varia. E qua possiamo uscire da questa parte per raggiungere la zona vicina al mulino. Chiaramente qua non è ancora a posto, come vedete è spoglio, manca tutto quanto. Però questo è un lavoro che faremo un'altra volta. E questa era la caverna appunto che unisce la strada che arriverà al mulino, quindi quella che ci sarà nel bosco, con il fiume. Adesso prendiamo la barca e vi faccio vedere anche il percorso sul fiume. Ok, allora andiamo indietro. Perfetto, giriamo di qua. La barca non è molto governabile. Ok, perfetto. Andiamo avanti, come vedete qua c'è una mini cascatella di acqua, poi si prosegue. Qua c'è un bel po' di vegetazione, qua va sempre aumentando. E qua addirittura è chiusa quasi completamente, vedete ci sono gli alberi che si sovrappongono. Un'altra mini cascatella e si arriva in questo punto che dovremo continuare in un altro episodio. Ragazzi, spero che questo lavoro vi sia piaciuto, è qualcosa di diverso dal solito, che ogni tanto mi piace fare queste decorazioni in questa maniera qua. E a questo punto, ragazzi, direi che ci vediamo sull'attore della mia casa per rispondere a una delle vostre domande. Ed eccomi qui, ragazzi, sull'attore della mia casa per rispondere a una delle vostre domande. Quella di oggi me la pone 23TechnikVale24 YouTube, immagino, un nome abbastanza complicato. Comunque, mi fa più di una domanda e mi chiede, da quanto tempo ti sei appassionato a Minecraft? Quando avevi pochi iscritti, eri contento? Ai tempi si cresceva più rapidamente? Allora, partiamo dalla prima domanda. Sono appassionato a Minecraft da tantissimo tempo, perché ancora prima di aprire il canale ci giocavo. L'ho detto diverse volte e ho iniziato a giocarci nel 2010, più o meno. Quindi sono sette anni che gioco a Minecraft. Quando avevo pochi iscritti ero contento? Beh, sì, direi di sì, perché più di una volta, anche parlando della mia esperienza su YouTube, ho detto che non badavo molto al numero di iscritti. Nel senso, non era il mio obiettivo quello di fare tanti iscritti, ma di portare qualcosa che potesse piacere. E poi, l'avere tanti iscritti era una conseguenza del fatto che facevo bene quello che volevo. Quindi portavo dei contenuti originali. Quindi ero comunque contento. E ovviamente, anche quando ne avevo dieci, cinque, anche quando ho fatto solo il primo iscritto, ero veramente contentissimo. Poi l'ultima domanda mi chiede, ai tempi si cresceva più rapidamente? Allora, secondo me, da un certo punto di vista sì. Nel senso che bastavano pochi video per poter, diciamo, emergere su YouTube. In realtà io ho iniziato a fare video su YouTube pubblicando un video a settimana e sono andato avanti per un bel po' di tempo, forse anche un paio d'anni facendo così. Poi, tra una cosa e l'altra, quando sono arrivate le collaborazioni, ho iniziato a fare anche più video a settimana. Oggi dico che se io facessi un solo video a settimana, probabilmente sparirei, anche se ho così tanti iscritti. Perché, ragazzi, è diventata una specie di corsa aromai YouTube. Chi fa più video riesce a essere più visibile. Una volta era molto molto diverso. Quindi, la mia crescita non è stata rapidissima perché, appunto, facevo pochissimi video. Però, comunque, è andata bene nei primi anni. Adesso le cose sono cambiate tantissimo, ma è un po' che lo dico. Perché sono cambiati i contenuti, il modo di portare i video, eccetera, eccetera. Comunque, per farvi un esempio, l'ho detto altre volte, i primi 100 iscritti li ho fatti dopo 5 mesi che avevo aperto il canale. E, quindi, è passato un bel po' di tempo. E, per arrivare a 1000, ho impiegato poco più di un anno. Quindi, non è stato facile, comunque. Bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questo episodio, che spero vi sia piaciuto. Vi ricordo che la prossima settimana, quindi 7, 8 e 9 aprile, sarò a Roma per il Romics. Quindi, ragazzi, vi aspetto numerosi. Spero che vi siate organizzati. E vi ricordo che porterò anche le mie magliette. A questo punto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!